La pace dei santi sia con voi. Come abbiamo già detto, il sacro tempo di avvento è costellato di memorie dedicate alla Beata Vergine Maria. Infatti il 10 dicembre la Chiesa celebra la memoria della Madonna Lauretana, in ricordo della data dell'arrivo della Santa Casa a Loreto. Il santuario è sorto nel luogo in cui, secondo la tradizione, la dimora di Maria Vergine sarebbe stata trasportata prodigiosamente dagli angeli da Nazare a Loreto. Questo santuario risale al IV secolo ed è uno dei più antichi. Moltitudine di fedeli si sono recati in pellegrinaggio al grandioso santuario che racchiude la Santa Casa. Iniziato a costruire nel 1468 da Papa Paolo II, in breve diventò, ed è, secondo una felice definizione di San Giovanni Paolo II, cuore mariano della cristianità ed è considerato la Lourdes italiana. La convinzione di questa miracolosa traslazione ha spinto Papa Benedetto X V a costituire la Beata Vergine di Loreto, patrona principale presso Dio di tutti gli aeronautici. Oggi desideriamo porgere i nostri auguri a quanti lavorano nell'aviazione civile e militare e a quanti il 10 dicembre festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.